Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Come già fu per il primo mandato, anche l'eventuale rielezione di Joe Biden potrebbe costare molte vite umane. La sua campagna elettorale ha fatto dell'aborto, infatti, uno dei propri cavalli di battaglia. A colpi di spot come quello intitolato Tears Guys, lanciato lo scorso primo settembre e programmato per due settimane in sette stati americani, ovvero Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Wisconsin e Carolina del Nord. Forti le critiche giunte in merito alle associazioni Pro-Life, che han definito senza mezzi termini estreme le politiche abortiste promosse da un Biden che solo a parole ama proclamarsi cattolico. Laura Ecevarria, portavoce di National Right to Life, ha evidenziato come Biden sia il presidente più favorevole all'aborto nella storia della nostra nazione, al punto da coinvolgere l'intera amministrazione per promuovere e proteggere l'aborto illimitato, oltretutto a spese dei contribuenti. D'altra parte, la lobby pro-choice negli Stati Uniti può contare su finanziatori potenti, e non si tratta solo della multinazionale dell'aborto Planet Parenthood, che ovviamente è parte in causa, bensì anche di miliardari pronti a sostenere con i propri soldi la ferale causa. Come l'amministratore delegato della multinazionale Berkshire Hathaway, Warren Buffett, quinto uomo più ricco al mondo, a un'età, 93 anni, in cui bene sarebbe fare i conti con la propria anima, ha deciso invece di sponsorizzare la campagna abortista. Negli ultimi vent'anni ha destinato per questo decine di miliardi di dollari, convinto della necessità di ridurre la popolazione del pianeta, come ha rivelato un dettagliato reportage in due puntate, firmato da Aidan Ludwig per Restoration News. L'Agenzia di Informazione Info Cattolica ha riportato anche le dichiarazioni della figlia di Buffett, Susie, che nel 1997 ha specificato come il controllo demografico sia ciò che mio padre ha sempre ritenuto essere il problema più grande e più importante. Quest'indagine giornalistica ha permesso di evidenziare come dal 2000 ad oggi Buffett abbia avversato almeno 5,3 miliardi di dollari a favore di attivisti ed esecutori di aborti. Dal 2002 avrebbe elargito anche 41 miliardi di dollari a quattro fondazioni impegnate a promuovere l'aborto all'estero. Assolutamente fittizio e forviante dunque quanto dichiarato lo stesso Buffett nel 2003, quando annunciò che le azioni della Berkshire Hathaway non sarebbero più state donate a gruppi abortisti. In realtà, ha spiegato Aidan Ludwig nel proprio reportage, migliaia di sovvenzioni sono state versate negli ultimi due decenni dalla Howard Buffett Foundation, dalla Novo Foundation e dalla Susan Thompson Buffett Foundation, tutti organismi gestiti da membri della famiglia Buffett. Da qui sarebbero usciti più di 3 miliardi di dollari destinati tutti ad organizzazioni dichiaratamente pro-choice, quali Planet Parenthood, Mary Stokes International, la National Abortion Federation, NARAL, DKT International e molte altre. Con questi soldi sarebbero stati finanziati aborti non solo negli Stati Uniti, ma anche nel Regno Unito, in Africa e altrove. Ma l'ideologia mortifera si serve anche di altri strumenti per imporsi come pensiero dominante ovunque, anche cancellando chiunque abbia un'opinione differente. E il web, in questo, torna a distinguersi una volta di più quale veicolo privilegiato dell'incubo orwelliano. YouTube, ad esempio, secondo quanto rivelato dalle agenzie infocattoliche Zenit, starebbe predisponendo una nuova politica atta a censurare i contenuti pro-life, o in ogni caso, contrario all'aborto e alle linee guida dell'OMS in materia, linee guida che considerano l'aborto un diritto umano, con modalità ancora da definire, ma tali in ogni caso da vanificare i dubbi di quei pochi che ancora ne nutrissero circa l'imparzialità dei social media, come anche Meta o Facebook, dir si voglia, e Twitter nella moderazione dei contenuti. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org